Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Cari amici, ben ritrovati all'appuntamento col Meteo di TV6. Nel corso di questa domenica assisteremo ad un incremento importante dell'instabilità su tante nostre regioni da nord a sud, specie sui monti e nelle aree interne, grazie all'intrusione di area più instabile alle alte quote che andrà a scorrere su un vero e proprio cuscino di area molto calda e umile situata nei bassi strati da nord a sud. Ne consegna quindi la formazione di numerosi temporali in Val Padana, sulle Alpi e anche lungo l'Appennino. In Abruzzo un weekend stabile solo al mattino con cielo sereno, poi nel pomeriggio si svilupperanno con estrema facilità dei temporali nelle aree più interne, dall'Aquilano settentrionale fino all'Alto Sangro, la Marsica, fenomeni localmente di forte entità con rischio di isolate grandinate, forti raffiche di vento, qualche annensamento si spingerà sul terramano, i settori centrali però senza particolari conseguenze, più stabile invece sulle coste, le temperature stazionarie o in leggerissimo calo solo nelle aree più interne. Grazie per l'attenzione e a tutti voi una buona giornata. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.